Allora, la scorsa volta abbiamo visto, sempre dal nostro amico Los Meios, Mario Oveil, abbiamo visto una partita fuori di melone. Ma era indietro nel tempo, e credetemi, credo di averne individuato altre due tè, che potrebbero essere davvero molto interessanti, perché il no sense ci vuole nella vita. Bene, ora però non voglio dare il no sense, voglio portarvi in un altro gameplay, in un gameplay sicuramente più recente, come state vedendo in questo preciso momento, ed è diverso. Stiamo parlando di pro player, cioè ragazzi abbiamo The Viper, abbiamo NBL, abbiamo Dato e Tattoo, tutti insieme appassionatamente, adesso vedremo se sono anche nella stessa squadra chi è messo con chi, oppure è una Royal Rumble, All'interno di questa mappa, sì, nuova, e esattamente ciò che era T90 ai tempi, Mario Oveil è un pochetto più in là, non so come cavolo faccia riesce a coinvolgere questi pro player, e a creare questo bellissimo mondo, e io dico, tante 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 belle cose. Aspettate che io mi metto qui, ok, no, fa schifo. E allora mi rimetto così con logout del genere. Sto creando una mappa simile ma più cattiva, ottimo, 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 sarebbe bellissimo, davvero bellissimo poterla provare, qualcosa di stramboide. E poi giuro che mi metterò a cercare anche delle mappe tipo in Battle Royale, perché sembra strano, ma proprio l'altro giorno mi stavano facendo notare questa cosa alcuni amici, e mi fanno, ma nessuno che ti fa qualcosa su una Battle Royale, nessuno che ti fa qualche mappa particolare, bene, te ne invio alcune. Beh, ha detto, eh, grazie, 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 amico mio, molte grazie. Altra questione molto importante, e... Credo che a Peppino piacerebbe. Eh, a Peppino! Peppino ormai è diventato un uomo ricercato, tra una roba e l'altra, dato ricercato. Mi, eh, mi ispira davvero tanto, ragazzi, scusate il naso, eh, questa mappa, perché come vedete è stramboide, è esattamente ciò che voglio ogni tanto, eh, da Age. Voglio mappe differenti, voglio vedere strategie differenti, voglio vedere il caos più totale, voglio vedere come questi pro player si atteggiano all'interno di mappe, aspettate che mi tiro via ste cuffie, eh, molto diverse tra di loro. In Arabia, vediamo, abbiamo visto, ehm, The Viper, sì esatto, è come una fossa, è come una fossa dorata, solo leggermente rivisitata. Abbiamo visto il The Viper giocarsela con dei rush incredibili, dei flank meravigliosi, ehm, poi abbiamo visto, ehm, vari altri tipi di, di mappe, no? Eh, ma non ho mai visto, che ne so, pro player sfidarsi in una fossa dorata come questa, non ho mai visto pro player sfidarsi in una foresta nera, non mi ricordo di aver mai visto pro player sfidarsi, ma che ne so, che mi verrebbe in mente in oasi, isole della squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, vorrei, ok, ampliare un attimino le mie conoscenze, o comunque anche le mie strategie, guardando e osservando come dei pro player agiscono a tali situazioni. Ora devo cercare di comprendere se sono 4 vs 4, oppure, ehm, hanno la possibilità di fare Royal Rumble, c'è un Battle Royale, tutti vs tutti. Una cosa è certa, come vedete, si sono puntati verso il centrale, stanno cercando di tenere il punto della meraviglia, Ma è quello davvero l'obiettivo giusto? O per meglio dire, ragazzi, permettetemi di puntare a fare una strategia. Non l'ho mai giocata, non lo saprei, ma a mente fredda, io direi, vaffanculo il centro. Cioè, nel senso, ci sono talmente tanti player, ce ne sono 7 in questa mappa di altissimo livello, Ciao Capocetto! Ce ne sono talmente tanti che non riusciresti a tenere testa a tutti quanti contemporaneamente. E ovviamente più il tempo della meraviglia va agli sgoccioli e più tutti si punteranno su quello che sta vincendo. Ed è appunto qui che dico, ma perché io devo utilizzare risorse, oppure utilizzare tante truppe militari per andare a fortificare il centro? Il centro sarà una zona calda, quindi immagino che arriveranno arcieri, arieti, trabocchi, mia nonna anche potrebbe arrivare lì in mezzo. Per cui io dico, lasciate che gli altri si azzuffino, io arrivo e ti spacco le gonadi o a destra o a sinistra. Insomma, guardate la posizione, noi siamo ovviamente focalizzati sul centro, ma credo vivamente che in una mappa del genere puoi arrivare al centro dopo. Te ne frega niente avere il controllo della meraviglia, non so se gli porta davvero qualcosa o se non ad inimicarsi tutti gli altri player, no? Se voi avete il controllo di questa cosa è chiaro che tutti saranno lì, cercheranno di buttarvelo giù, insomma, il viola è il vostro nemico in questo preciso momento. Lo è per il blu, lo è per l'azzurro, lo è per il grigio, lo è per mia nonna. Quindi io dico, perché inimicarsi tutti questi pro player? Assolutissimamente no. Preferisco stare un pezzettino indietro, magari buttarci sì un centro città, non ho detto di no, perché obiettivamente è un punto molto ricco. Davide, ciao Davide, benvenuto, ciao bello, ciao. È un punto bello stonco, ok? Ma meglio difendersi. Ora, guarderemo essenzialmente se i player sono tutti nemici. Da quello che vedo il blu si è barriccato moltissimo, da quello che vedo il grigio si è barriccato moltissimo, da quello che vedo il giallo, la viola, che è giallo, il viola si è barriccato tantissimo. Questo mi fa intendere, anche se non conosco assolutissimamente le regole di questo cosa. Ecco, quello che avete visto lì prima era lui, Mario Ovalle. E appunto dicevo, adesso mi è chiaro, adesso che vedo anche il castello che attacca il centro città del verde, vedete che gli sta tirando, che sono un tutti contro tutti. Per cui la strategia non può essere, in questo caso, la gestione della mappa, la gestione del game, non può essere il cosa faccio adesso. Forse in questo caso è meglio pensare ad un causa-effetto. La madonna! E chi hai conosciuto, Davide? Dopo me lo devi raccontare, dopo me lo devi raccontare. Tieni in caldo questa bella storia che me la racconti, assolutissimamente, perché merita, merita tanto e poi sai che io adoro Apex. Scusami se no, perdo un attimino il filo del discorsetto. Dicevo, forse... Sapete quando parliamo delle sfumature di Age? No? Quando parliamo del fatto che Age... Eh, prendi il tipo! È la legna e crea il tuo mino che va a sparare! Beh, non è esattamente così. Ad un primo acchitto... No? Può essere questo. E cioè, prendi le risorse e crei il tuo mino. Più risorse hai, più omini crei e quindi più puoi uccidere il tuo avversario. Dopodiché, quando scopriamo il gioco, scopriamo che non tutti gli omini sono uguali. Quindi un omino è più forte rispetto a quell'altro, quel determinato bonus è particolare. Andiamo ancora più in su e scopriamo che utilizzare bene un omino, parliamo degli arceri, ebbè, con la micro diventano estremamente efficaci, ok? Con, quindi, la conoscenza degli uomini che uccidano correttamente determinati uomini e i movimenti corretti da utilizzare in determinate situazioni, ci accorgiamo, quindi, di non essere più quel player che pensa che avere il numero grosso lo aiuterà a vincere. Dopodiché, facciamo un altro passo avanti, ed è quello che parlo sempre dei livelli, ragazzi, ok? Dove, ad un certo punto, definisci che la tua civiltà è più forte con quel determinato omino, che è con quella civiltà, la strategia giusta è con quel determinato omino. Bene, perfetto. Ora, qui, voglio andare un pochetto più in là. Entriamo nel... nel grande mondo, ok? Dei pro player, alcuni diranno, eh beh, la fai troppo complicata, troppo glossa per quello che è. No, ragazzi, in questo caso, più di creare il tuo omino, più del... o la civiltà che faccio questi omini, forse la finizza più alta che potete ottenere è quella del... come mi posso muovere contro sette player che hanno alte capacità, alta conoscenza del gioco, una competenza nel gestire, creare e... proprio micromanagement di tutto quello che conosciamo al mio stesso livello, l'unica opzione che ho per fregare questa matassa di player è solamente giocando d'astuccio. Se gioco d'astuccio, inteso come giocare d'astuzia, è chiaro che, come vedete, il centro è un punto caldo, esattamente quello che dicevo, una strategia sul lungo periodo. È qualcosa di complicatissimo, amici, da poter anche solo lontanamente immaginare. Cioè, nel senso, voi all'inizio del gioco dovete già ipotizzare, appunto, che il centro sia una zona calda, che dovrete iniziare a difendere i vostri territori e prendere più territorio possibile, esattamente come sta facendo il giallo. Allo stesso tempo, sapete che, se non prendete la parte centrale, molte delle risorse importanti del gioco, appunto, oro e pietra, non saranno per voi così tanto abbondanti, per cui la vostra strategia sul lungo periodo, sul corto periodo, deve essere studiata. Ed è appunto qui che dico del age, è un gioco che a determinati livelli non può essere esattamente preso alla leggera. e appunto per rispondere a mia mamma o alle vostre mamme che vi dicono Eh, ma sono solo un gioco! Io dico, molte volte, sotto quella patina, no, di leggerezza dei giochi, in realtà c'è molto, molto, molto di più. Per gestire un game del genere a qualsiasi livello, ho sempre ritenuto che l'intelligenza umana, quindi la capacità di capire come andrà uno scontro, la capacità di poter prevedere cosa succederà, la capacità di, appunto, anche counterare quello che succederà, non è qualcosa che i player possono ottenere velocemente, rapidamente e neanche con poco sforzo. Per fare un esempio, anche il gameplay di Apex può sembrare un semplice sparatutto. Devo essere sincero, adesso che sono entrato nella zona platino di Apex, io dico sacra del pisello, cioè, ne ho prese davvero tantissime. mi accorgo ogni giorno sempre di più come in Age che c'è qualcosina che possiamo mettere, c'è un livello più in là e che, obiettivamente, se uno è bravo a questo videogioco, uno è un pro player, per, vabbè, ci sono delle competenze che non mi erano bianchiare fino a, appunto, tre secondi fa. Come vedete, ad esempio, Casva e, appunto, ha, appunto, utilizzato una strategia che io avrei adottato. Lasciamo completamente stare qualsiasi unità costosa, puntiamo ad una civ con, magari, delle unità chip, delle unità trash, come la cavalleria, come le picche, e, ok, non concentriamoci sul centro, ma quando il mio avversario, il primo avversario che è, è un attimino scoperto, perché non può stare attento sia da una parte sia dall'altra, sebbene le sue capacità siano altissime, io arrivo e lo devasto. Così facendo, non dico che vinco, assolutissimamente no, ma riesco a ottenere nuove risorse, come, appunto, il legname che sappiamo essere l'unico vero, l'unica vera risorsa di cui avete bisogno. Se in Age avete legna, finché avete legna potete provare a combattere, potete davvero provare a fare qualcosa. Dall'altra parte, se vi mettete lì in mezzo, dovete mettere un castello, eh, ma tutti arriveranno all'età imperiale, e quindi arriveranno i trabucchi, e quindi arriverà questo, e quindi arriverà quell'altro, e adesso si avviciniamo, appunto, al fatto che The Viper ha il controllo sulla meraviglia, e mancano solamente 111 anni affinché lui vinca. Ma, secondo voi, glielo concederanno così facile il giallo, il viola, il verde e il grigio? Assolutissimamente e probabilmente no. Eh sì, oggi abbiamo la creme della creme, crema di crema la Headgal, amico mio. ed è per questo che l'ho trovata interessantissimo questo game, perché appunto potrebbe, potrebbe dimostrare tranquillamente e potrebbe farci comprendere tranquillamente che le strategie nel lungo periodo in Age, che non abbiamo mai trattato nel nostro canale e che neanche penso di mettermi a trattare perché è un discorso talmente difficile e complicatoso, complicatoso, che dici come facciamo a gestirlo? Ed ecco appunto che, guarda caso, i verdi sono entrati nel centro città di The Viper e gli stanno facendo il culo a paio lino. Amici, ribadiamo, vedere i pro player è sempre bellissimo, sempre fantastico, micro eccezionali, eccetera, 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 ma loro sono così bravi che non puoi batterli nella micro, loro sono così eccezionali che non li puoi battere su questo territorio, comprendiamo? E la stessa cosa avviene per voi, qualsiasi sia il vostro livello, se il vostro livello è un elo, faccio un esempio, under 1000, i vostri nemici saranno player under 1000, se voi non siete davvero così tanto forti, non riuscirete a vincere con la micro, dovete vincere con l'astuccio, intesa come astuzia, l'unica opzione è quello di fare un piano sul lungo periodo, in mappe come queste. ovviamente non saprei neanche come portarlo questo discorso, non saprei come portarlo, però il blu indubbiamente è quello che sta seguendo la strategia che io vorrei seguire, e si sta rivelando anche abbastanza vincente, ok? Ha distrutto abbastanza bene il rozzo in modo tale che gli sta vicino e quindi non gli rompi tanto le scatole, vabbè The Viper è lì, va bene, ok, questo e quell'altro, però è attaccato dal giallo, è attaccato dal verde, non si è difeso, insomma, vedete di come poi e lo abbiamo anche notato su King of Desert, boh, è meraviglioso, è meraviglioso, cos'è sta roba? ma cos'è? Ma che roba è? Ma è stupendo! Fategli una clip a quest'uomo, fategli una clip! Sì, bombardatelo con... Ma... Ma questo è Matrix! Questo cavallo è Matrix! Ah no, è morta! Ci sono solo voluti otto trabucchi per buttarlo giù, meraviglioso, meraviglioso. Stavo dicendo, come abbiamo anche notato diverse volte, The Viper è fantastico nell'1v1, ha giocato moltissimi tornei nell'1v1, se però lo vediamo giocare in qualcosa di diverso, in qualche modo gli si sfacciola l'intelligenza. a volte meglio che si mettono a fare il moonwalk, davvero! Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Dicevo, per me The Viper è un player meraviglioso, cioè, davvero, possiede tecnica, esperienza e tanto, tanto... Oh, mamma mia, ragazzi, che Dolores! che Maria Dolores lì in mezzas! Arca miseria, arca pupazza! Ah, lì è veramente un Dolores! Va bene, tanti cavalli, ragazzi, sì, verranno anche distrutti, ma che due cose! Ciao, grazie Riccardo! E dicevo, ad un certo punto, il The Viper mi si sfacciola, cioè, nel senso, guardate il suo punteggio, guardate cosa sta facendo? Sta morendo! Indubbiamente! No? E... Ed è il primo a morire! Quindi, aver preso il controllo, non aversi... Sì, magari lui dice, ma sì, chi se ne fa? Sgranchisci, ti adesso, Adesso, magari lui dice, ma sì, chi se ne frega? Tanto, ho la morosa gnocca, chi se ne frega, no? Del tutto! Ma è chiaro che ci fai una figura un po' barbina, cioè, nel senso, sei stato il campione al mondo di Age, in questo game mi fai una figura barbina. Non sai più cosa pensare. No? Perché magari... che male la schiena ragazzi, perché magari sono talmente concentrati sulle loro strategie e le sanno talmente bene che quando iniziano a uscire fuori dai ranghi e devono pensare a delle strategie vagamente diverse, non lo fanno con impegno, non lo vogliono fare, buuuh, morale della favola, The Viper, guardatelo, l'azzurrino, è morto! Ciao, ciao! Che succede, Mario? Ah, ok, scusami, mamma mia! E vedete, mi... mi... mi sfacciola, e mi sfacciola così. Il blu, più che essere concentrato sul centrale, continuiamo a vedere che sta puntando al rosso, anche il grigio osserva con attenzione questo che... eh... doveste provare il mio... io c'ho la fisioterapista, gatto, ed è pure gnocca, tac! Basta. Eh... diciamo, anche il grigio ha una strategia particolare e... e cioè... mi tengo fuori dai giochi, ma non è un fuori così tanto fuori come sta facendo il blu che se ne sta fregando, ma è abbastanza da poter intervenire nel caso in cui, che ne so, mancassero 40 anni alla vittoria di un player vario ed eventuale. E così. No, assolutissimamente no, Riccardo, neanche ha avuto tempo di sciacquarmi le ascelle. Esisenda. Vediamo che cosa succede. Giallo e violaceo... Eh... Giallo e violaceo se le stanno dando di... eh... Santa... Santissima. Ragione. MBL contro iOS Bills. Ok. Poi cosa abbiamo? Capoccio. Un nome già sentito, non saprei proprio definire che cosa ha vinto, che cosa ha fatto. The Viper ha deciso che quel cubicino, quel pezzettino è suo e farà fuori chiunque gli si pari davanti, anche se, come vedete, mollichella, 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 quegli elefanti stanno per morire. Vabbè, in The Viper è bello che è andato. Il viola deve cercare di tenere la posizione, gli sono stati... è stato tirato piuttosto che andare verso le unità militari, ecco, anche questo potrebbe essere un buono spunto in game del genere, piuttosto che andare lì in mezzo e rompere le scatole, cosa hanno preferito fare? Hanno preferito il giallo e il verde, quasi in accordo, anche se sicuramente non c'è stato, ma strategicamente è meglio bloccargli le nuove truppe in arrivo, perché poi pian piano, pian piano, senza monaci, senza strutture con cui poter rimpinzare le unità, le unità andranno a morire, si logoleranno e quindi andranno a morire, è solo una questione di tempo. Ecco, anche in questo caso è una strategia difficile complicata ma permettetemi di ipotizzare che in un game 1v1 potreste concentrarvi come vediamo molte volte nella difesa di quell'attacco preciso che vi sta facendo il nemico ma subito dopo attaccare, riprendere posizione appunto perché lì magari vicino non ci sono delle strutture avversarie e quindi sapete che ed è quello che dico sempre quando attaccate è inutile far fare ai pipinotti 847 chilometri perché poi sono davvero chilometri no forse è meglio portare qualche abitante del villaggio fare lì alcune scuderie scuderie nella tua città per gli aggiornamenti la scuderia davanti al tuo nemico per pompare sempre duro cioè deve essere una marea un vulcano che continua sempre a buttare fuori truppe appunto per non lasciare quel gap di tempo al nemico di poter pensare a strategie varie eventuali oppure riprendere le forze credo in chat me lo confermeranno che è sempre stata una strategia che ho apprezzato molto ma non è una strategia che io apprezzo molto è una strategia fruibile intelligente basta poco per creare una strategia efficace no? le strategie si 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 è annichilito è annichilito è annichilito e avrà la morosa lì così là davanti non ci avrà capito più niente e ha detto sai cosa me ne frega ciao Mario Veil vaffanchiappola io ho la morosa qua tra le gambe non mi interessa appunto dico the viper così allo stesso tempo come vi stavo dicendo le strategie non sono né buone né cattive le strategie vanno però supportate ok? cosa significa supportate? significa che in base al nostro stile in base alle truppe che vogliamo utilizzare deve esserci una strategia mentale dite in parole povere se noi vogliamo utilizzare solo faccio un esempio con i britanni unità di tiro ok? mi sembrerebbe abbastanza stupido andare a fare degli aggiornamenti che ne so dal fabbro per la resistenza dei cavalli faccio esempio a cavolo piuttosto meglio appunto puntare a fare un'università e quindi fare la balistica o si sul fabbro puntare con una determinata priorità alla gittata e poi alla resistenza no? dei nostri dei nostri arcieri ma molte volte queste cose che sembrano logiche non vengono fatte appunto basta mamma mia cos'è sto grumo di gente ma marostica 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 mamma mia ragazzi ho i capelli proprio alla sgarbe domani zac 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 mamma mia ragazzi tanto dolores tanto dolores certo che comunque te li stai facendo brincares arca miseria ragazzi ci sono le bombarde che gli stanno facendo un culo un attimino a ciambellotto eh a ciambellotto attenzione vediamo cosa succede i viola si sono fatti aggressivi maro ah ma no 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 ah perché hanno le bombarde ecco anche qui eh nel senso bombarde potentissime incredibili vediamo sciottano tutto quanto ehm la risposta giusta alle bombarde è essenzialmente il trabucco non ce ne sono molte altre di risposte eh che possiamo andare a fare quello che mi chiedo io è perché comunque non le ha fatte domandas o comunque non c'erano altre possibilità oppure perché accapponirsi su quel lato domandes io faccio le domande non sta andare con gli arieti che te li fanno secchi subito il giallo sta prendendo una posizione importante cioè nel senso non apprezzo moltissimo anche se la utilizzo il fatto di piazzarsi sul piccolo spazio con tante torri o tanti castelli non l'apprezzo neanche lontanamente ora però mi sento di dire un'altra questione che non avevo valutato fino a 5 secondi fa siamo in un momento avanzato del game l'oro al di fuori della parte centrale non ce n'è più neanche lontanamente potete ottenerlo ovviamente con gli scambi quindi essenzialmente i detrabucchi in game ad un certo punto inizieranno a scarseggiare i player non si potranno permettere questa spesa folle di 200 di 200 d'oro no ed è qui appunto che penso vivamente che sia il momento di entrare in game avete capito il ritardo di entrare in game oppure allo stesso tempo il fatto di aver utilizzato nel primo frangente del gioco unità trash nel secondo frangente del gioco cioè da adesso unità di più alto spessore ecco penso penso questo ma lo penso adesso dopo aver visualizzato un game un game del genere è una lettura è comunque una una lettura attenzione i grandi assalti di Dato The Viper non so che fino ha fatto The Viper ragazzi non ha neanche dato il Gigi non ha neanche dato il Gigi allora Capuch il Rosso Tatò le sta prendendo abbastanza cioè è un'ora che le sta prendendo da 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 Basva 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 le bombarde e credo che fino a un determinato periodo lui ci sia riuscito perfettamente vedete sta cercando di tenere la posizione con le bombarde e però la massa è sempre la massa e comunque il costo è sempre un costo cioè nel senso non ti può non ci si può per me cioè secondo me è efficace ok avere quattro bombarde tutte lì vicino è efficacissimo forse dico forse si potevano alzare dei muri forse dico forse si potevano fare bombarde con torri forse dico forse si poteva utilizzare bombarde e castelli 9 ragazzi 9 9 per capoccio 9 per capoccio 8 per capoccio gli anni che mancano alla vittoria se riesce a tenere lì le truppe vince e lui e lui non è lui porca miseria il grigio non è riuscito il viola sta riuscendo pian piano a distruggere meno 3 meno 3 meno 3 meno 3 meno 2 meno 2 meno 2 meno 2 mancano le persone non riescono ad entrare 1 1 1 1 capoccio capoccio ecco non so più cosa dire qua non so più assolutissimamente cosa dire il blu che non sta attento al countdown e già qui è qualcosa che non riesco a spiegarmi il giallo che è un pro player anche lui non riesce a entrare se ne frega del tutto il grigio che stava attaccando il verde se ne frega l'unico che fa qualcosa è il viola amici partita meravigliosa partita incredibile abbiamo visto tanti modi di fare diversi eccetera 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 ma penso ancora una cosa questi player sono talmente a sue fatti da determinati tipi di game che alcune volte perdono di vista alcuni focus ad esempio che bisognava arrivare e prendere il controllo di quella maledetta meraviglia per tutto il resto credo che sia stata una partita meravigliosa dei viper ha preso la sagra dell'uccellino tutti gli altri ci hanno dimostrato che ci sono tante strategie tante sfumature in un gioco così meraviglioso grazie a tutti grazie a tutti